Qui al campus Sacra Famiglia i ragazzi sono immersi in un mondo educativo che va a coinvolgerli direttamente anche sulle loro passioni ed è per questo che cerchiamo di lavorare noi insegnanti in collaborazione con gli educatori e gli esperti sui tre livelli di apprendimento, il sapere, il saper sentire e il saper fare. Ecco perché nasce insieme alle attività didattiche anche la Scuola delle Arti, il progetto di Creativamente che si dà come obiettivo quello di poter formare i ragazzi anche negli ambiti che più loro possono interessare, quelli per esempio dello sport, della cultura, delle arti e tutto quello che ha a che fare con la sfera emotiva della loro vita scolastica. La Scuola delle Arti è una realtà ormai consolidata all'interno del campus Sacra Famiglia. Creativamente infatti propone ormai da anni all'interno della scuola corsi che vanno dalla musica, quindi strumenti musicali, batteria, chitarra, violino, flauto traversa, pianoforte, a corsi collettivi come per esempio danza, varie sfaccettature modern, hip hop, classica, teatro educativo ed esperienze nelle quali i ragazzi possono sperimentare anche le loro doti sia artistiche che sportive come il mini calcio, il rugby, la pallavolo. Creativamente porta avanti un'idea che è quella di dare ai nostri ragazzi l'opportunità di esprimersi anche attraverso le arti e anche attraverso le proprie passioni. È da questo presupposto che è nata ormai 11 anni fa la compagnia teatrale quelli del venerdì, un'associazione culturale ormai che ha compiuto più di 10 anni e che vede tra le sue fila giovani ragazzi e ragazze che sono ex studenti di questa scuola. Parallelamente a questa attività la scuola porta avanti il progetto estivo del gioco estate all'interno del quale trovano compimento gli incontri e le serate che alcuni dei nostri educatori portano avanti nel corso dell'anno attraverso la pastorale giovanile che coinvolge gli studenti ormai usciti dalle medie e che però rimangono immersi all'interno del mondo e del centro educativo Sacra Famiglia. Tutto ciò anche grazie alla collaborazione di tutti i membri dello staff delle piscine Andrea che con il loro supporto garantiscono sia la piscina come attività scolastica e extrascolastica sia come momento di svago all'interno del gioco estate ed elettività e stile.